La politica infiamma l'Aquila dopo il voto alle elezioni amministrative, due le questioni principali, la formazione della nuova giunta e la crisi tutta interna al PD che ha visto come primo atto le dimissioni della segretaria cittadina Emanuela Di Giovan Battista. Il sindaco per la giunta incontrerà i rappresentanti dei partiti e delle liste che lo hanno sostenuto per ripartire gli assessorati, poi singolarmente incontrerà di nuovo partiti e movimenti per riempire le caselle con i nomi. 15 giorni per formare la nuova squadra. La presidenza del consiglio comunale potrebbe vedere la riconferma di Roberto Tinari di Forza Italia. L'alternativa potrebbe essere Vito Colonna di Fratelli d'Italia. Il vice sindaco potrebbe andare alla Lega, potrebbe essere una donna, Laura Cucchiarella, la più votata, ma si fa strada anche l'idea dei due ex assessori Fabrizio Taranta o Daniele Ferella. Potrebbe rientrare in giunta anche l'ex assessore al turismo Fabrizia Quiglio non rieletta. In giunta dovrebbero entrare comunque un minimo di quattro donne, a Fratelli d'Italia, tre assessorati, Raffaele Daniele, Vito Colonna se non dovesse avere la presidenza e Dersila Lancia. La lista di Sant'Angelo L'Aquila Futura potrebbe proporre Laura Cocuccetta o riportare dentro Luca Rocci. Daniele D'Angelo di L'Aquila al centro potrebbe restare semplicemente in consiglio. L'assessorato andrebbe al medico Stefano Flamini. Anche Fabio Frullo, sindacalista nella lista del sindaco, potrebbe avere un posto in giunta. Il PID intanto è alla resa dei conti, si susseguono le assemblee. Ora la base del partito e non solo i più giovani chiedono un rinnovamento. La segretaria cittadina Emanuela di Giovambattista ha rassegnato le proprie dimissioni, parlando di un errore fatto con la linea della doppia candidatura per allargare il fronte del consenso e portare a biondi al ballottaggio. E la candidatura di Stefania Pezzopane, ha detto lei, non era evidentemente quella giusta. Fatta la sua analisi, la di Giovambattista ha rimesso il mandato. Ricandidandosi però sulla base di una nuova piattaforma, di una nuova linea politica e programmatica. Sarà il voto assembleare a decidere se si proseguirà con lei o meno. È finito un ciclo, ma guidare il cambiamento, la di Giovambattista è stata molto chiara, non potrà essere Stefania Pezzopane. E a quanto pare la maggioranza è d'accordo, dovranno emergere nuove figure con l'obiettivo di ricostruire un campo largo progressista, facendo una sintesi tra le forze di opposizione in consiglio e provando a recuperare pure l'intesa con Americo Di Benedetto.